Signore e signore, vengano, vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica. Dieci lottatori e un solo vincitore. Affilate le note. La Top Ten sta per iniziare su CineFan 100.7. Ne rimarrà uno solo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Ed iniziamo con la Top Ten, la numero 10 dei giornalisti, il singolo Sold Out. Numero 9 per il brano di Luciano Ligabue. Ottava posizione per Paola Turci, con il singolo Fatti Bella per te. Settimo posto per Michele Bravi, il diario degli errori. Sesto posto, il singolo di Giorgia, Vanità, numero 6. Numero 5 per Elma Almeta, con Vietato Morire. E ricorda che è vietato morire, è vietato morire. Posizione numero 4 per Fiorella Mannoia, che sia benedetta. Saliamo sul podio e troviamo Samuel, il brano Vedrai. Numero 3. Numero 2 per Tiziano Ferro, con Carmen Consoli, il singolo Il Conforto. Ed arriviamo alla prima posizione. Sempre lui, Francesco Gabbani, con il brano Sanremese Occidentali Scherma. È lui, il numero 1. Nella tua gabbia 2 per 3, mettiti comodo.